ciao ragazzi ciao ragazze allora mi faccio vedere anche la scatolina credo che per un po' per gli interattivi sul canale le vostre domande e richieste che vengono realizzate in maniera del tutto gratuita ci mancherebbe e soprattutto grazie per le questioni che sollevate perché mi date idee nuove anche se poi le tematiche sono quasi sempre convergenti verso gli amori tormentati ma d'altronde si vede che è ciò che più tocca ciascuno di noi allora per un po' utilizzeremo dei mazzetti singoli e vi mostrerò anche le scatoline questo mazzettino è veramente molto particolare io l'ho acquistato in un mercatino e come potete vedere ho praticamente salvato la scatolina che stava per disintegrarsi con lo scotch l'ho plastificata a modo mio e sono delle carte che possono essere lette sia nel verso diciamo normale che al contrario capovolgendole ma hanno una particolarità ve lo faccio già vedere da questa che praticamente anche se dovessero venire in verso opposto voi potete girarle per guardare bene l'immagine quindi lasciarvi ispirare anche dall'immagine in posizione corretta tanto la spiegazione o quantomeno non tanto la spiegazione però un input interpretativo ve lo dà già scritto cioè sia l'interpretazione per la carta presa correttamente che presa verso opposto in francese però diciamo che dai si può capire sono cugini poi alla lontana sono cugini le carte in tedesco sono un po' più complesse però alla fine basta imparare con le parole cercandole sul dizionario dopo un po' di pratica abbiamo anche il mazzetto con le spiegazioni in tedesco poi lo utilizzeremo abbiamo già usato per i primi consulti all'inizio all'apertura del canale allora andiamo a vedere questa sera domanda molto interessante se lui o lei sta corteggiando qualcuno in questo periodo di coronavirus che abbiamo tanto tempo da perdere e tanti social per molto tempo a disposizione è che siamo per caso corteggiando qualcuno abbiamo iniziato qualche storia online qualcosa bolle in pentola ma vediamo un pochino ovviamente erano già mescolate ma le abbiamo rimescolate per sicurezza e andiamo subito a preparare i mazzetti mi piacciono molto questi dorsi con questi pattern molto flashanti come si suol dire allora eccoci qua variante blu variante rossa variante gialla beh che dire prendetevi tutto il tempo necessario io allontano un po' perché altrimenti poi non mette a fuoco e cominciamo? avete già in mente? volete stoppare il video? è inutile che io vi faccio perdere tempo parlando perché vi deconcentrate stoppate nel silenzio scegliete allora variante azzurra o blu noi alzeremo sempre così al di là del fatto che poi gireremo la carta quando verrà nel verso opposto vediamo se qui abbiamo iniziato a frequentare qualcuno a corteggiare frequentare ovviamente in maniera molto molto metaforica visto che non credo che almeno che questa persona lavora si muove in realtà sta anche frequentando perché poi l'apsus hanno sempre un qualche cosa di vero non nascondono, non lo veicolano hanno sempre una loro funzione allora abbiamo un 21 che ci richiama se vogliamo pensare agli arcani il mondo la riuscita, prosperità, salute quindi qua c'è una bellissima carta tra l'altro di cuori quindi vi posso dire che questa persona o è innamorata se non è innamorata è infatuata se non è infatuata comunque è come se stesse sapete lo squillo di tromba per annunciare magari una battuta di caccia conclusa il bottino ecco questa persona a caccia è andata il bottino lo ha comunque lo ha conseguito, l'ha ottenuto e finalmente queste cornucopie piene di frutti e di abbondanza si riversano su di lui o quantomeno questo è quello che questa persona pensa quindi abbiamo una persona che qualche cosina ha messo a bollire in pentola e ti viene subito dopo una bella giovane donna bruna che vi è diciamo che è ben predisposta è pronta predisposta e mi dirò quest'abito giallo inizia a farmi pensare che non tanto lei ma voi state un pochino risvegliando quel senso di gelosia a cui seguirà un po' di rabbia da un lato forse ve lo aspettavate d'altronde se state ascoltando questo interattivo qualcosina forse il vostro sesto senso ve l'aveva già suggerito allora sappiate una cosa questa persona sta riflettendo non tanto riflettendo se stessa nello specchio ma sta riflettendo su quello che le è capitato io credo che ci sia stato un incontro ripeto questo interattivo nasce ponendo la domanda focalizzandoci anche sul mezzo di comunicazione online questa persona ha ricevuto un corteggiamento abbiamo anche una carta di fiori andiamo a scavare in tutte le simbologie quando una donna riceve dei fiori quando è che un uomo porta dei fiori quando vuole corteggiare comunque una persona ora vi dico anche una cosa da questa prima carta mi viene una brava persona brava in che senso? non è un'anima pesante non è una persona come dire non è una manipolatrice lei più che altro è una vittima cioè in questo gioco se poi si creerà una dinamica vittima e carnefice questa è una vittima e forse l'altro che è andato in pompa magna perché è andato proprio a caccia e quindi ha dato un'immagine di sé un pochino diversa dalla realtà ecco ha bindolato buonariamente questa persona che crede di aver conosciuto un determinato individuo ma dirlo con l'individuo l'individuo c'è un po' meno di quello che ha mostrato e questa persona effettivamente un pochino si è infatuata in senso positivo quindi tra i due l'uno va a caccia ed è felice di aver catturato la preda questo prova lui o lei che sia l'altra persona che è stata corteggiata si è infatuata quindi ha un sentimento e poi vi volevo far vedere una cosa perché abbiamo appena detto quando un uomo va con i fiori non è una donna e poi da lontano mi rendo conto che avevamo anche un bellomino con i fiori vabbè tanto per dire questo lo notavo mentre vi parlavo quindi questo è venuto al contrario cosa ci dice al contrario? ci dice ah è cattive notizie matrimonio mancato quindi sappiate che se questa persona nel frattempo scriveva anche a voi frasi d'amore o quantomeno tra voi è iniziata tempo fa allo stesso modo una conoscenza tramite social allora sappiate che questo è un predatore seriale perché si è conosciuto anche voi tramite questi mezzi e lo sta facendo tuttora non siete la prima non siete l'ultima siete una delle tante poi a prescindere da che grado di interesse ci sia vostro per lui e suo per voi questo è un altro paio di maniche però se vi ha fatto promesse importanti la carta della malattia viene a dirci semplicemente che da questa situazione dopo questo periodo usciremo un po' debilitati debilitati e quindi quello che ha preso probabilmente non verrà restituito l'affetto che abbiamo dato la fiducia che abbiamo dato è andata dispersa e magari essendo parte del nostro sentire dei nostri sentimenti di un qualcosa di comunque radicato in noi quello che abbiamo offerto venendo da non da un calcolo razionale ma proprio da un sentire ecco è complicato poter essere come dire rimborsati a questo livello e la prima sensazione che probabilmente avete avrete verrà fuori da questa situazione è proprio una grande delusione una grande grande delusione la carta della casa al contrario a sua volta ci viene a dire che ci sono comunque degli inconvenienti degli imprevisti la casa ha sempre a che fare con la famiglia la famiglia in senso lato è un nucleo che ha un'armonia e un motivo molto profondo per stare insieme quindi possiamo intendere anche una coppia che si vuol bene o si scambia promesse d'amore questo asso di cuori e però sappiate che in effetti lui un pochino l'occhio intorno lo ha mandato in questo periodo in più anche una carta con un 13 ci fa pensare un bel taglionetto che potrà essere probabilmente per voi comunque una rinascita poi abbiamo la casa quindi l'inconveniente di prima all'interno della quotidianità cioè questa persona questo atteggiamento probabilmente lo aveva anche prima però in questo momento di chiusura forzata in casa probabilmente ha anche ampliato il suo spettro di conquista nel suo diciamo territorio di caccia e che si presenta questo bel mercante che se la sa contrattare bene sa offrire sa vendere quello che vuole vendere di lui che ci saranno per lui difficoltà negli affari quindi ora non so se voi avrete modo di appurare questa cosa ed è certo che vi porterà quantomeno un minimo di discussione con questa persona non solo voi probabilmente anche l'altra dall'altra parte potrebbe mangiare da lunga la foglia e capire che questa persona ha venduto diciamo fischi per fiaschi e ha saputo ben argomentare ha saputo ben proporre la propria merce però come quando vi è mai capitato di leggere sui prodotti la foto vorrebbe non rispecchiare perfettamente il contenuto quando si dice un prodotto è una pubblicità comunque ingannevole ecco o la foto vorrebbe non rispecchiare il contenuto il profilo social vorrebbe non rispecchiare il contenuto del profilo quindi l'altra potrebbe alla fine salvarsi perché vi ripeto mi sembra comunque una vittima una brava persona che è capitata tra le grinfie di questo malandrino di questo non Giovanni però non date per scontato che non ci possa essere anche qualcun'altra addirittura e prima o poi qualcuno gliela fa pagare e lo coglie in flagrante e non come dire non diamo per scontato che non ci sia una moglie e che magari la moglie alla lunga si insospettisca di questo comportamento comunque durerà poco questa situazione anche se il lupo perde il pelo ma non il vizio variante rossa abbiamo qualche corteggiamento in atto vabbè dai però ragazzi per fortuna che stiamo facendo assieme io penso di avere un rapporto particolare con queste carte io le adoro e loro mi sbeffeggiano in senso buono perché io lo so che tanto fanno loro tutto e proprio si prendono buonariamente il gioco di me quasi a dirmi ci sfidi e noi ti rispondiamo per davvero perché vai a chiedere se corteggia qualcuno e in due varianti uno presso l'altro ti viene fuori una donna qui c'è una donna che sta aspettando e ha una donna che non gliene tiene neanche più tanto di aspettare anche qui abbiamo una donna onesta dice la carta un'amante una donna gioiosa che potrà essere utile quindi potrà essere comunque positiva e vi dico una cosa qui non è tanto che quest'uomo si sta guardando intorno quest'uomo aveva da tempo questa situazione non ne ha tante ma questa già c'era e oppure è un qualcosa che si era chiuso e si è riaperto in questo periodo di ripensamenti riflessioni eccetera eccetera questa persona lo ha già aiutato in passato tante volte gli ha dato sostegno gli ha dato appoggio gli ha dato asilo gli ha dato soldi gli ha dato pazienza e tuttora è una di quelle rimaste innamorate di lui quindi se voi volete bene a questa persona sappiate che questa povera donna dico povera perché comunque ora lui è tornato perché ha bisogno di appoggiarsi a qualcuno e lei già è pronta lì con la sedia a dargli la possibilità di adagiarsi e riposarsi questa povera donna tutt'al più è una vostra collega in senso buono c'è una persona che si è innamorata abbiamo rimasto al soli questa sera in senso buono al contrario che ci dice allora ma anche lui avrà degli ostacoli sui progetti e che abbiamo qui vicino questo bel cagnolino la fedeltà e quindi il punto è questo questo gran signore anche lui ha famiglia questo gran signore vive dentro casa questo gran signore viene controllato dalla moglie e probabilmente questa moglie sembra molto meno sveglia pericolosa per virgolette aggressiva di quel che in realtà potrà essere che potrà essere poi effettivamente quello che può essere e vi dico anche un'altra cosa questa moglie è da un po' che sta studiando le mosse del marito e non è detto che non si voglia separare ma si è aspettando il momento giusto per avere prove per addebitare a lui la rottura del matrimonio qui c'è una persona molto paziente questo uomo le donne che ha avuto intorno le ha fatte innamorare quasi tutte è stato veramente sono stati veramente casi rarissimi quelli in cui ha trovato qualcuno che la pensava come lui una storia e via quindi diciamo accumulato un pochino di karma abbastanza negativo rispetto a queste donne che vanno nel loro inconscio collettivo vibrando all'unisono su una stessa sullo stesso torto subito si vanno la loro risonanza si amplifica si amplifica quindi se una di loro ha astio nei suoi confronti anche non conoscendosi le persone poiché il pensiero converge verso lo stesso oggetto quando quel pensiero che comunque elettromagnetismo si incontra a una certa distanza amplifica la sua potenza quindi a lui gli sta per tornare tutto e cosa gli torna vedete indifferenza questa è rottura e questa è un'altra donna c'è la donna bruna c'è la donna bionta io ve lo confermo qui c'è una moglie c'è una moglie che sta aspettando l'indifferenza non è tanto che fa l'indifferenza è che fa finta di niente perché sta studiando la situazione per arrivare comunque a una rottura questa donna è stanchissima questa è stanca da tanto tempo ma viene combinata di tutti i colori quest'uomo ne ha avute di donne comunque e vi dirò che probabilmente di dove vive voce gira e quindi questa povera donna ha anche subito il pettegolezzo e il dover stare zitta magari per amore della famiglia questo qui ora non so ora perdonatemi perché vorrei aver fatto una cazzo la persona che all'inizio vorrebbe aver ricontattato effettivamente potreste essere anche voi quindi sappiate interpretare bene questo interattivo perché sono sempre interattivi generali magari questa persona aveva messo un muro con voi e ora che ha bisogno ora che ha necessità ora che si sente scarico solo e dentro casa non può stare vi ha ricontattato allora sappiate bene siete una persona bellissima ve l'ho detto quella è una donna che l'ho aiutato in tutti i modi innamorata però sappiate pure che questo è un incostante e oltre ad essere un incostante non vi prendete questo accollo uso questa parola perché magari voi per amore sareste risposte a dire ma si lascia la famiglia venire a me ma sappiate che qui quando ci sarà la rottura economicamente con gli avvocati lui dovrà tirar fuori soldi questa donna giustamente vuole la sua parte non ce l'ha assolutamente con voi non è una donna anche perché non lo ama più è anche felice che ci sia qualcuno che se lo possa prendere anche se non ve lo augura perché è una di quelle persone che potrebbe dire ah poverina quella che ci capita e glielo vorrebbe anche aver infacciato in passato dopo ha adottato questa strategia perché ha capito che tanto non lo può cambiare può solo cercare di salvare il salvabile per lei allora notizie poco favorevoli e non ci sarà successo nelle cose che si fanno bene 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 e è vicina comunque il fatto di arrivare a un punto a una situazione vicina lo scoprirà forse lo sapete che vi dico lo scoprirà quando gli arriverà la lettera qui sta leggendo un giornale sta leggendo un quotidiano lo scoprirà sul momento guardate il vino che cade il bicchiere e questa cosa non l'ha preventivata assolutamente non si è reso conto di nulla e lo potrebbe scoprire così o in un momento a cena glielo dice effettivamente lei mentre sta leggendo facendo altro e lui ha un così un proprio salta dalla sedia oppure gli arriva la notizia gli arriva la notizia e tutto è disperso questo contenuto del bicchiere della coppa questo liquido è tutto finito e ormai si è andati oltre il limite oltre il limite cadi tutto al contrario guardate ora l'abbiamo detto io vi adoro quindi mi permetto questa confidenza anche perché lo faccio per quelle persone che mi chiedono sempre ma mi insegni mi insegni fidatevi delle carte sapeste quanto sono furbe abili nell'insegnarvi a leggerle però dovete ascoltarli ecco a voi l'uomo di legge ora o noi abbiamo come dire veramente la chiaroveggenza cioè vediamo il dorso delle carte non ve ne rendete conto io lo vedo e lo leggo ma ti arriva l'uomo di legge che deve prendere parte o ha un processo comunque sì comunque si avrà a che fare con una questione legale abbiamo proprio l'avvocato che vi devo dire io vi confermo tutto per questa seconda variante non mi dilungo troppo a volte vedete non faccio dieci minuti per una carta questa carta è veramente veramente diretta come tutta questa seconda variante sono curiosissima di sapere da voi se vi rispecchiate in quello che abbiamo detto se risuonano ma più che altro per capire quanto questo mezzo sia veramente efficace nel sondare la realtà allora andiamo a vedere la terza variante la variante gialla abbiamo conosciuto qualcuno qui sono curiosa 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 gioie felicità di corte di breve durata e difficoltà di denaro quindi qui siamo inguaiati siamo inguaiati con i soldi stiamo cercando aiuto allora se questa persona ha contattato qualcuno tramite social per adesso più che un amore è una richiesta veramente di qualcosa di necessario qui si vede il denaro ma può essere qualunque cosa qualsiasi cosa qualcosa che è terminato qualcosa che è necessario per andare avanti allora potrebbe anche darsi che abbiamo a che fare con una persona che ha bisogno effettivamente di amore e si tratta magari di una terza variante finalmente di quelle super fighe bellissime e romantiche in cui questo uomo è innamorato e gli manca da morire quella persona e la sta cercando può essere un ricercare qualcuno che non è stato sentito e quindi vi ripasso la palla la persona cercata in realtà siete voi vi faccio questo assist oppure semplicemente sta cercando la sua anima gemella allora altre due possibili interpretazioni perché è sempre un interattivo generale e generico lui cerca un'anima gemella non siete voi voi vi chiedete sta cercando si sta cercando oppure voi non avete in mente nessuno state ascoltando l'interattivo tanto per curiosità però ultimamente vi ha cercato qualcuno che non conoscete avete conosciuto tramite internet vorrebbe essere questa persona vorrebbe essere questa persona che sta cercando la sua anima gemella poi magari potete essere voi potete non essere voi questo è diciamo non è fondamentale adesso è fondamentale capire perché questa persona cerca qualcuno tramite internet quindi abbiamo quelle tre possibilità o un bisogno pratico o sta cercando comunque la propria metà nonostante frequenti anche voi oppure semplicemente voi non avete nessuno di cui chiedere ascoltate per passare un po' di tempo con me però qualcuno ha contattato voi come andrà mmm donna terribile donna terribile pericolosa brutta brutta ma proprio brutta dentro me la faccio anche vedere qui abbiamo una donna incavolata arrabbiata questa mena pure e gli fa pure male allora vorrebbe darsi anche che ci sia stata una discussione dentro casa non dimentichiamo che questo periodo economicamente è molto tosto c'è chi aspetta la cassa integrazione chi aspetta il bonus partita IVA chi aspetta il reddito di sopravvivenza potrebbe darsi che dentro casa si sia creato un clima terribile questa donna li stia rinfacciando chissà cosa il fatto stesso che i soldi sono finiti non ci sono se è un buono a nulla non vali niente è colpa tua bla 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 magari questa donna prima di questo periodo i soldi li andava a spendere per fare non so una seduta al parrucchiere un giorno sì un giorno no le unghie un giorno sì un giorno no che non c'è nulla di male se te lo puoi permettere però ovviamente se ci sono poi problemi economici non puoi prendertela magari con tuo marito o il tuo compagno quindi comunque c'è una persona che ha bisogno di essere ascoltata di trovare accoglienza cura affetto amore quindi questa persona se cerca cerca anche perché deve sfuggire scusatemi non so perché questo periodo l'ha messo a favore le carte è difficile deve fuggire la situazione che vive a casa è una situazione molto pesante malattia pianti questo animaletto guardate è morto lì questa persona si sente molto molto sola si sente sola demotivata si sente comunque veramente colpita affondata dentro sta morendo un po' anche lei abbiamo questo cagnonino inutile richiamiamo sempre il concetto della fedeltà guardate è come se stesse prendendo quelle poche cose che ha alla sedia si stesse allontanando da casa e vi faccio anche notare una cosa immaginatevi questa discussione dove questa donna prende quell'unica cosa di valore che aveva gliela distrugge quindi questa donna dentro casa sta distruggendo l'animo di quest'uomo o se questo è un uomo di questa donna lo sta proprio colpendo interiormente è di una cattiveria di una durezza di una rabbia di un astio veramente impressionanti cioè a volte bisognerebbe semplicemente ricordarsi che siamo esseri umani al di là della motivazione dello scontro è necessario rispettarsi non si può mortificare una persona portandola alla morte interiormente comunque gelosia gelosia qui io non vedo tanto la gelosia a livello di qualcun'altra ma il fatto che li possa rinfacciare guarda quelli come vivono guarda quelli come stanno bene guarda la mia amica il marito che tipo è tu non hai mai fatto niente nella vita non hai combinato nulla ce lo sta proprio bastonando poveretto qui vorrebbe darsi infatti anche che questa persona stia cercando all'esterno qualcuno una persona simile ma anche la sua vera metà perché non si riconosce in questo marrimonio assolutamente vediamo un po' triste questa terza variante e quindi si è dato alla ricerca abbiamo questo inviare una lettera che verrà comunque ricevuta presto perché se in francese a bionto vuol dire a presto che lo riceverà bionto sarà riceverà presto quindi questa persona sta cercando probabilmente la persona cercata o è trovata o poco manca ora io non so chi di voi siate se siete la donna cattiva cattiva scusatemi della descrizione però ci può stare anche quello io vi devo dire quello che è vero questo è un poveretto non ha colpa le contingenze della vita sono strane se siete invece l'amante la persona che lo ama a prescindere probabilmente sta cercando anche di rimettersi in contatto con voi e se non vi arriva nessun contatto anche se io penso di sì e voi lo sentite provate a contattarlo voi se lo potete fare comunque questa persona se si è dovuta allontanare per problematiche di famiglia non vi ha detto niente state vedendo che cosa c'è là dietro c'è l'inferno forse l'ha fatto anche per non portarvi nel suo inferno anche per farvi preoccupare di meno perché qua veramente non dico che si arriva alle mani però più o meno contrario a te eh problemi in amore in famiglia eccoci qua la situazione che vive questa persona dentro casa è terribile terribile lui prenderebbe fagotto sulla spalla e se ne andrebbe come farebbe questo 22 è il matto quel poco che ho quella sediolina che ho ho solo quello che vuol dire poi in realtà non possedgo niente se non un qualcosa per fermare questo mio povero corpo mortale stanco c'era la possibilità di sedermi a terra lì non è tanto la sedia il gesto sedersi anche a rendersi a un certo punto quando ti fermi non ce la fai più ti siedi o ti semplicemente immobilizzi quindi qui situazione dentro casa pesantissima terribile e vi continuo a far vedere anche queste donne brutte brutte dove l'aspetto brutto è proprio quello interiore ecco che ha messo un po' più a fuoco e che vi devo dire qui abbiamo una terza variante tosta 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 e mi dispiace tanto poi voi lo capite anche dal mio tono di voce quando parto in quarta ci sono le situazioni simpatiche quando poi la voce comincia a scendere dispiace a me per loro e niente ragazzi buona serata spero che l'interattivo vi sia risuonato perché se risuona può essere quanto meno utile per voi abbiamo presentato un altro mazzetto abbiamo fatto tre piccole varianti a breve faremo l'interattivo lui mi ha mai tradita tradito però questo lo facciamo con più mazzetti con più carte con più tempo quindi per adesso non lo faccio solo perché vi voglio dedicare maggior tempo per ora vi abbraccio e vi auguro una buona serata